Cinque decessi in 24 ore, il covid non ferma la sua corsa letale tra gli ultraottantenni della provincia. Due decessi nella notte al Moscati di Avellino, un 82enne di Carife ricoverato dal 31 gennaio ed un altro paziente di 80 anni di Serino ricoverato dall'11 febbraio. Altre tre le vittime registrate ieri, domenica 13 febbraio. Ieri pomeriggio un 82enne di Montemiletto ricoverato dal 7 di febbraio, una 63enne di Atripalda è deceduta sempre ieri nel pomeriggio e ricoverata dal 3 gennaio e trasferita il 29 nel reparto di terapia intensiva. E ancora un 88enne di Montella ricoverato dall'11 febbraio. 66 le vittime complessive dall'inizio dell'anno ricoverate tra Moscati e Nasla di Avellino. Una strage esilente nei reparti tra subintensiva e terapia intensiva che stride con il decremento dei contagi, che in Irpinia pure si registra, così come nel resto d'Italia. 183 i contagi di questo weekend su 1.544 tamponi processati in provincia. Anche nel comune capoluogo si scende ad un numero più rassicurante. 26 positivi, 12 ariano, 10 solo fra in Montoro, i comuni su cui il virus si era abbattuto in maniera più pesante negli ultimi mesi. 29 i pazienti ricoverati a frangipane, 3 in degenza ordinaria, 10 in subintensiva, 1 in terapia intensiva, 12 medicina a Covid, 3 a cardiologia. Nelle aree Covid dell'azienda ospedaliera Moscati sono 44 i pazienti ricoverati, 4 in terapia intensiva, 16 nella degenza ordinaria subintensiva del Covid-Ospital, 19 nell'unità operativa di malattie infettive, 5 nell'unità operativa di pediatria della città ospedaliera. E calano anche le dosi di vaccino somministrate. Nella giornata di ieri appena, 491, 159 le pediatriche. Numeri però da interpretare in maniera positiva, in considerazione dell'immunità raggiunta in Irpinia, con percentuali rassicuranti, poche dosi in corrispondenza di un alto tasso di immunizzati. 894.599 le persone vaccinate, 334.424 le prime dosi, 302.975 per le seconde, 257.080 con la terza.